Ciao a tutti, sono Cristina Toso e sto partendo per il mio viaggio durante la campagna elettorale. La coincidenza è impressionante. Cristina Toso, candidata alle prossime elezioni nella lista di Sergio Giordani, è stata travolta mentre attraversava la strada, praticamente nello stesso punto in cui aveva realizzato poche settimane fa il suo video elettorale, un video in cui si faceva conoscere dai cittadini. Sono stata cinque anni in Consiglio Comunale dove mi sono occupata soprattutto di cultura, cultura in vista come sicurezza, perciò istruzione, diffusione della cultura popolare e attenzione alle persone più anziane. E Cristina Toso questa mattina è stata investita da un motorino in via Tiziano Aspetti alla fermata del tram mentre attraversava la strada. Ora è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. 51 anni, consigliere comunale a Padova dal 2009 al 2014, è candidata alle elezioni nella lista Padova Bene Comune che sostiene il candidato Sergio Giordani. Il motociclista, un minorenne che si stava dirigendo da Vigo d'Arzere al centro città, dopo aver accidentalmente travolto la donna, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi, mentre la Toso è stata portata in ospedale in prognosi riservata dai sanitari del suo M118 intervenuti sul posto. Sergio Giordani era stato a sua volta colpito da un'ischemia cerebrare il 4 maggio scorso durante un'iniziativa elettorale nel quartiere di Volta Barozzo e un secondo candidato della coalizione di Giordani, l'ex calciatore Fuglio Simonini, 56 anni, già bomber di Atalanta e Padova, era stato colpito da infarto il 25 maggio a effettuare i rilievi sul luogo dell'incidente all'Arcella, gli agenti della polizia locale. Grazie. Grazie. Grazie.